Oggi prepariamo una ricetta che si ispira alla cucina cinese, ma è rivista un po' a modo mio, il pollo con le mandorle. Per prepararlo servono pochissimi ingredienti, le mandorle, quelle pelate, poi un petto di pollo, dello zenzero in polvero oppure fresco, quello che avete, della farina di riso, io avevo quella di riso rosso ma va bene anche quello bianco, un mazzetto di cipollotti freschi e poi salsa di soia, olio di semi e sale. Inizio fettando i cipollotti, poi preparo dei dadini di pollo. Adesso infariniamo il petto di pollo. Eliminiamo la farina in eccesso. In un padellino caldo tossiamo le mandorle. Adesso in una padella antiaderente scaldiamo il cipollotto, lo lasciamo un po' soffriggere con lo zenzero e olio di semi e poi aggiungiamo il pollo. Aggiungo il pollo e lo faccio rosolare una decina di minuti a fiamma abbastanza bevace in modo che si formi un po' di crosticino. Adesso che sono ben dorati aggiungiamo le mandorle, un po' di acqua calda e la salsa di soia e lasciamo cuocere ancora 3 minuti. Soltanto alla fine assaggiamo per il sale perché la salsa di soia è già un po' salata e vediamo se bisogna aggiungerne un po'. È pronto, ho assaggiato a giusto con un po' di sale, poco e poi sono pronta per l'assaggio finale. Dato che sono l'unico in casa che sa usare le bacchette perché ho vissuto un po' con uno dei cinesi, assaggio io. E' anche il più scettico fra l'altro, io ho una paura del suo giudizio. Com'è? Mmm buono, adesso prendo la mandorlina. Molto buono, molto buono.